Il mio gesto è un gesto tipico della mia terra contadina di Lunigiana, di Toscana, che fanno tutti dita riunite che vanno verso la bocca senza dare nessun tipo di ritmicità. E gli dico di mangiarsela e boccaloni che cosa volete, mangiatevi la Costituzione. E faccio questo gesto e basta. Io non so se posso, se posso! La Costituzione. Ciò che ha provocato il caso è una male interpretazione del suo gesto. Certo, certo, certo. Vi sto dicendo quello. Poi, se la tricelezza è quella lì che si alza, quella vestita di nero. Non c'è ancora un senso. Non ce l'abbiamo. Eccolo, guardate. Guardate la Lezzi. Allora, hanno la Costituzione e io rispondo alla Costituzione. Questo sembra mentre parla. Guardate il gesto della Lezzi che io non ho visto, ha visto il senatore Danna. Chiediamolo a lei, mentre un senatore parla perché la senatrice Lezzi si alza e continua a... Che gesto è questo? Va bene, lascia. Andiamo a vedere a lei. No, io non ho visto, io non sono, non ho la malizia, non ho visto nessun gesto, ma non l'ho visto né in diretta né adesso. Adesso. Allora.